Bentornati, eccoci qua nuovamente a Talk Sicilia. Ormai da settimane stiamo affrontando il tema della campagna elettorale del prossimo 25 settembre, cercando di raccontare a chi ci segue cosa succede, chi sono i candidati e quale può essere il prossimo futuro della Sicilia. Il 25 settembre si vota sia per il rinnovo del Parlamento regionale siciliano, l'Assemblea regione siciliana e per la contestuale elezione del Presidente della regione siciliana, si vota anche per le elezioni politiche. Oggi qui in studio abbiamo un ospite, un collega, un giornalista, Vincenzo Lapunsina, però Vincenzo tu non sei qui in veste di collega, non vuoi fare l'opinionista, ma sei candidato all'Assemblea regionale siciliana, è rullo di tamburi, mettiamo un po' di enfasi, hai scelto di candidarti con la lista Sicilia Vera, con la lista che candida come Presidente della regione, Scateno De Luca, o anzi Scateno De Luca come tutti lo chiamano. Ci spieghi le ragioni di questa scelta Vincenzo? Sì, intanto grazie per l'invito. Le ragioni di questa scelta risiedono nella convinzione assoluta che la regione siciliana, la politica regionale, ha bisogno di una soluzione, di discontinuità tra il governo e la regione siciliana. Ti voglio interrompere un attimo, facciamola così questa intervista molto giornalistica, botta e risposta rapida, più una discontinuità, il Cateno De Luca Presidente non sarebbe un segnale di discontinuità, sarebbe un vero e proprio elettroshock? Alla Sicilia non serve l'elettroshock, alla Sicilia serve, lo ribadisco, un segnale di discontinuità, una soluzione di discontinuità tra il governo regionale e il governo dello Stato. Abbiamo necessità, e ho scelto Cateno De Luca perché io sono stato negli ultimi cinque anni indirettamente dentro le istituzioni per la vicenda delle zone franche montane e mi sono accorto che le istituzioni romane e le istituzioni regionali è come se fossero in combutta, come se fossero d'accordo rispetto alle decisioni giuste da prendere a favore del popolo siciliano. Cateno De Luca rappresenta, ne sono convinto, fermamente convinto, rappresenta quella discontinuità che deve esserci tra lo Stato e la regione siciliana. Immaginate se il senatore Schifano fosse eletto Presidente della regione e a Roma il centrodestra al governo sicuramente non ci sarebbe soluzione di discontinuità e il popolo siciliano resterebbe nella condizione di questuante rispetto ai diritti che ha e rispetto a ciò che lo Stato deve riconoscere alla regione siciliana. Però stai invertendo un pochettino qual è il sentire collettivo di noi giornalisti, spesso si dice se c'è un governo di un colore a Roma e c'è un governo di altrettante identità politica in Sicilia, probabilmente si dialoga bene. Tu invece tendi a scomporre questa tesi, serve una lettura. Questa convinzione di fatti ha portato la regione siciliana, la Sicilia, il popolo siciliano ad una posizione di subalternanza in una condizione di un popolo colonizzato da Roma. La regione siciliana banta tanti crediti nei confronti dello Stato. Lo Stato in maniera sreale non riconosce questi crediti. Se c'è lo stesso governo a Roma e a Palermo sicuramente il governo palermitano risponderà alle logiche di partito e chiaramente se dovesse andare alla Meloni, Salvini o qualcuno indicato da Berlusconi il 26, il 27 lo vedremo, certamente al governatore siciliano di centrodestra diranno no fermiamoci tutti questi soldi non ve li possiamo dare. Siccome l'autonomia regionale e l'attuazione dello statuto vale qualcosa come 20 miliardi di euro l'anno e allora ci vuole qualcuno che effettivamente ponga il problema, lo mette sul tavolo della discussione, possiamo benissimo pensare ad un saldo e stralcio per il passato ma un punto fermo deve essere messo. Il popolo siciliano ha diritto di avere ciò che gli spetta, senza sé e senza ma. Cateno De Luca rappresenta questa soluzione di scontinuità ed è la persona a mio avviso e avviso della maggior parte del popolo siciliano perché sono certo che Cateno De Luca verrà eletto Presidente della Regione. Tutto questo può avvenire soltanto con una persona che ha questa lungimiranza e questa lucida follia come quella che ha Cateno De Luca che è un elemento positivo caro Messina. Una follia positiva sostieni tu? Assolutamente sì. Vorrei tornare un attimo indietro perché tu poco fa ci raccontavi del tuo impegno istituzionale sulle zone franche e montane. Ora, chi ci segue probabilmente non sa esattamente cosa siano, ci spieghi proprio una battuta a cosa servono e perché possono essere degli spin per promuovere il territorio. Tu vieni dalle Madonine. Sì, intanto iniziamo a parlare di paesaggio, non parliamo di territorio. Mi piace più, suona meglio il termine paesaggio. Oggi stai facendo crollare tutte le mie certezze narrative. Assolutamente, mi fa piacere. Ma sei, Alonso, un giornalista cattivo di quelli cattivi, la tua penna arrabbiata? No, non so. Cioè la tua penna arrabbiata ha a disposizione qualche legge? No, 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 no. Le zone franche e montane, le disposizioni attuative, approvate all'unanimità il 17 dicembre 2019 dall'Assemblea regionale siciliana, rappresentano la prima legge di prospettiva della storia della regione siciliana, del Parlamento siciliano. Pensate che, pensa, che le zone franche e montane sono già progetto e hanno anticipato di cinque anni il piano nazionale di ripresa e resilienza. Sì, ma in termini pratici cosa sono e a cosa servono? Le zone franche e montane intanto servono per attrarre investimenti e poi concedono a chi svolge attività nelle terre alte di Sicilia, nei comuni al di sopra dei 500 metri d'altezza in Sicilia e hanno la sede legale al di sopra dei 500 metri d'altezza in Sicilia, prevedono un sostegno, una fiscalità di sviluppo, non di vantaggio, perché noi non chiediamo alcun vantaggio in termini fiscale e in termini previdenziali. Quindi INPS, IRPEF, IMO, tutte queste tasse, questa legge è prevista al momento per dieci anni a scalare dal 100% i primi tre anni e poi a scalare fino al 20%. Intanto abbiamo chiesto al governo Musumeci, al vicepresidente della regione Armao, di far partire l'esperienza amministrativa. E che vi hanno detto? In maniera sleale, nei confronti di tutti gli operatori economici, di tutti i residenti delle terre alte di Sicilia, tutta gente che non ha avuto la possibilità di scappare dalla Sicilia, hanno risposto picche, nonostante lo Stato nella legge di bilancio di fatto aveva previsto 100 milioni di euro per far partire l'esperienza amministrativa. 100 milioni di euro per le zone montane siciliane? Sì, Armao e Musumeci, con la complicità del governo regionale e dell'intero Parlamento che ha mangiato le promesse, ha rimangiato la promessa fatta, li hanno utilizzati, hanno utilizzato per altri fini i soldi che di fatto... Per mettere a riparo la legge dalla giustizia della concorrenza, lo Stato non poteva destinare sotto forma di finanziamento alle zone franche montane la risorsa per far partire come fase di start-up la legge. Musumeci e Armao, principalmente Armao, perché Musumeci non ha capito niente di ciò che stava succedendo e dell'importanza dell'applicare questa legge, nonostante fosse stato opportunamente sollecitato dal Presidente della Commissione Finanza e Tesoro del Senato, che per ben due volte a novembre 2021 ha chiesto fate partire l'esperienza amministrativa perché i soldi poi sicuramente nel bilancio della Regione li troverete perché i soldi di fatti ci sono e noi abbiamo indicato pure dove sono le risorse. E invece i soldi sono finiti in questo calderoglio? Lo Stato nella legge di bilancio del 2022 ha previsto 100 milioni di euro sotto forma di insularità per compensare lo svantaggio strutturale, aveva previsto 100 milioni di euro e così come le ha previste anche per la Sardegna, perché era giusto prevederlo anche per la Sardegna. Musumeci non ha mantenuto la parola, non ha mantenuto la parola per colpa di Armao, del professore Armao e con la complicità di tutto il governo regionale, gente che non dovrebbe venire in montagna a chiedere voti, io vi compreso l'intero Parlamento che non ha fatto niente per far notare al Presidente Musumeci e far notare ad Armao che noi ci saremmo accontentati di 20 milioni di euro, così come ha promesso il Presidente Musumeci il 13 dicembre del 2021 a Catani, ci saremmo accontentati dei 20 milioni di euro che avrebbero permesso avrebbero permesso al Senato della Repubblica, alla Commissione Finanza e Senato della Repubblica di far partire, di definire l'iter legislativo che sta segnando proprio il passo in sesta Commissione. L'irresponsabilità di questa gente ha portato a perdere tempo, perché sono degli irresponsabili, mi assumo la responsabilità. Manteniamo un tono super parte. No, 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 ma è la verità, perché qua c'è un problema, qua è in gioco la vita di centinaia di persone, di migliaia di aziende che hanno bisogno di guardare al futuro con fiducia. Ma in realtà questo intervento sulle zone franche con una fiscalità di sviluppo, questi soldi servirebbero per fare infrastrutture, per fare reti? No, questi soldi intanto nella fase di start-up servono per dare fiducia. Sì, ma come li volete usare? Non li usiamo, i comuni e i politici non toccano palla su queste risorse. Queste risorse sono messe a disposizione e poi c'è un meccanismo che noi abbiamo spiegato in tutti i modi, è presente anche agli atti delle commissioni. Si va a creare un meccanismo, una camera di compensazione tra la regione siciliana e l'Inps e l'Agenzia delle Entrate e i comuni che va a compensare il debito che ha il operatore economico. Per essere chiari, praticamente se io ho da pagare delle tasse all'Agenzia delle Entrate con questa norma, con questa norma, IRPEF, INPS e IMO. Quindi si crea un vantaggio competitivo sul piano fiscale. Si crea una condizione di sviluppo e si compensa la sperequazione che c'è tra la montagna e il mare. E oltre a questo… Tu correttamente parli di una zona che non è stata presa in considerazione. Ora faccio io un pochettino l'avvocato, il difensore delle zone montane, il racconto che arriva dalle madonie come da Nebbioli e di terre che vengono completamente spopolate con dei ragazzi costretti a migrare. Non ci sono servizi, non ci sono ospedali. No, questo è un altro discorso. Come il PNRR, le zone franche montane, questa legge, queste disposizioni, non sono misure sostitutive, sono misure integrative. Uno dello scopo, per capirci. Perché altrimenti tu fai un trattato molto profondo di diritto costituzionale comparato… No, stavo parlando di desertificazione. Appunto, parliamo di desertificazione, concetti chiari così la gente capisce il dramma che vive la zona montana. Questo è per frenare il processo ancora reversibile di desertificazione umana e imprenditoriale. Perché noi negli ultimi anni andiamo con cifre che vanno dal 14 al 15% di desertificazione, il 12, il 13% di desertificazione di tutte le terre alte di Sicilia. Le zone franche montane rappresentano uno strumento che permette di frenare. Perché intanto è un attrattore di investimenti. Perché ci può essere qualche grosso imprenditore che decide, vado a fare un OPC, un OPC in montagna nelle terre alte, che poi le nostre sono terre alte. Che sia Petralia, che sia Gangi, che può essere Buccheri piuttosto che Castellana, Petralia, Gangi. Le Madonie sono queste, i nove comuni delle altre Madonie e c'entrano tutti. Alimena, Bonpietro, Bruco, Castellana. Crea occupazione e la gente non va via. Poi quando tu vai a creare occupazione e si blocca il fenomeno di desertificazione, a questo punto puoi chiedere interventi importanti sulla viabilità, interventi importanti sulla sanità. Aspetta, questo è importante, mi sembra di capire che senza quella precondizione, cioè senza la condizione di sviluppo, viene difficile agli amministratori locali chiedere risorse. Ma vada a sé, se i comuni si stanno spopolando e da qui a dieci anni non ti mettono il punto nascita. È questo il punto, è chiaro. Nascita, il punto nascita... No, ho fatto un esempio così per essere... Ma anche lì, anche lì, proprio sul punto nascita, io preferisco che le nostre donne partoriscono in un posto sicuro, dove c'è, dove c'è... Avevo fatto un esempio per la... No, 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 ma è semplicissimo, ma significa anche questo avere attenzione per la montagna. Vai a partorire in un posto sicuro, io regione siciliana, la regione siciliana, io governo, vado a prevedere un aiuto forfettario alla donna che si trasferisce nei pressi dell'ospedale per una settimana, dieci giorni, quello che deciderà il ginecologo, e secondo una prescrizione specialistica, che si trasferisce col marito, con la mamma e quant'altro, quando è tempo del parto, tu vai a partorire, esci da casa e sei subito in ospedale. Una donna che sta male a Gangi, piuttosto che a Petalia, deve andare o a Nicosia, oppure a Cefalù o a Termini, e stiamo parlando... Con tutti i rischi del caso. Con tutti i rischi del caso. Ecco, il governo regionale... Ma com'è possibile, perdonami, che noi giornalisti, i grandi media, si sono dimenticati di questo dramma collettivo? Ma perché... Perché non fa audience? Ma perché non fa audience? Ma sono le zone più belle della Sicilia, sono i territori di grande vocazione naturalistica, culturale... Certo, perché quando si spopola un'area, quell'area è a rischio incendio, è a rischio idrogeologico, non ci va più nessuno... Strade bloccate... Ma le strade, la manutenzione ordinaria per quello che si può fare e si fa, però non puoi andare... Cioè, venire a vivere in montagna significa consumare più gasolio, perché se ti sposti da un comune ad un altro, non puoi mettere marce più lunghe, devi camminare di seconda e terza, mentre invece se ti sposti da Palermo a Cefalù, quarta, quinta, sesta per chi ce là. Se noi dobbiamo spostarci da Gangi a Caltavuturo... Hai giocato una frizione. No, non hai giocato una frizione, ma hai consumato più gasolio, perché le strade hanno una condizione, una condizione manutentiva, che non è la stessa condizione manutentiva di una strada del nord. Ecco, la fiscalità di sviluppo è una condizione fondamentale, intanto per, ribadisco, guardare al futuro con fiducia, perché l'imprenditore dice, guarda, sta arrivando questa misura di sviluppo, resisto per qualche altro mese, vediamo che cosa accade. Non avendo avuto questa possibilità, abbiamo fatto sfiduciare, sono riuscito a fare sfiduciare migliaia di imprenditori, perché si aspettavano... Che erano la colonna vertebrale di quel paesaggio. Ma sono la colonna vertebrale, l'accoglienza, il negozio, il bar, la pizzeria e il fronte... Peraltro con la crisi energetica che c'è, quasi a rendersi salvezza. È semplicissimo, questo governo, Armao, che oggi si cante dalla presidenza della regione, ha creato un danno, spero irreversibile, a quello che è la fiducia che avevano, che hanno, che continuano ad avere, perché noi cerchiamo di mantenerla viva e sicuramente, nel caso che mi riguarda, se dovessi essere eletto, è una condizione assoluta nel mio impegno politico tra quelle... Io non lo sapevo, ma mi sembra di aver toccato immediatamente il tema centrale della tua candidatura. È questo, no? Ma non è il tema centrale solo della mia candidatura. Come si scrive nel programma di Cateno De Luca, questa battaglia per... Ma questa battaglia Cateno De Luca ha voluto inserirla nel decimo, nel cosiddetto decimo comandamento, di prevedere... Quindi avete un decalogo pure. Sì, un decalogo nel prevedere una fiscalità di sviluppo, qualora dovesse servire, ma serve, da destinare alle terre alte. Schifani, giustamente, non credo che si parli di fiscalità di sviluppo, perché deputati che parlano sia nell'estino... Tu stai citando però come competitor avversario esclusivamente del centrodestra. Del centrosinistra il competente non lo tiene in considerazione. Ma guardate, guardi... Come mai? Guardi, Versina, non... Ma siamo colleghi, diamoci del tuo, anche se siamo davanti a una telecamera. Sì, allora, non tengo in considerazione il centrosinistra, perché, insomma, vuoi per i sondaggi, vuoi per quello che sento in giro. Sui sondaggi non sai tantissime polemiche, eh? Sì, della Chennice non se ne parla completamente. Quindi il tema è, Cateno De Luca vincerà assolutamente l'elezione. Ma avete dei sondaggi che vi danno questa sensazione? Ma i sondaggi io li faccio... Spannometricamente. Li faccio in maniera artigianale. Strada per strada. Vado nelle piazze, vado in giro per le strade dei comuni, e... Ah, sei con De Luca? Allora noi siamo con De Luca, perché De Luca? E c'è tutta una narrazione attorno a questo presidente della regione, che si chiama Cateno De Luca. La gente lo ha preso. Qual è il punto debole di Cateno De Luca? Perché è un uomo con istrioni... Ama troppo la Sicilia. Il punto debole di Cateno De Luca... Ama troppo la Sicilia e si... Perdonami, quindi rischia una sovraesposizione? Dovesse diventare presidente? Sicuramente sarà un elemento di disturbo per i poteri forti, sarà un elemento di disturbo per la politica. Io non capisco che cosa... Schifani, che conosce bene la storia e lo stato dell'arte della regione siciliana. Siamo al caos, al caos finanziario, al caos sui rifiuti, al caos sulla viabilità. L'emergenza dell'emergenza in Sicilia è l'incertezza. L'incertezza. Dove non c'è certezza non ci sono regole. Ma qual è questo desiderio immenso, innato, che ha un uomo che per 27 anni è stato in Parlamento e sostanzialmente per questa terra di Sicilia ha fatto poco o niente e i numeri sono sotto gli occhi di tutti. Qual è questa cosa che lo spinge a voler essere per forza presidente della regione siciliana? Caterino De Luca, se dovesse essere... che verrà eletto, devono farsene tutti una ragione. Caterino De Luca, quando arriverà al governo della regione siciliana, troverà caos. Il primo caos, perché bisogna parlare... Ma tutti siamo la terra di Pirandello, senza caos non saremmo noi stessi. Sì, però ora è tempo di cambiare. Pirandello lasciamolo alla cultura, alla letteratura. Noi dobbiamo cambiare, perché altrimenti se non rimettiamo a posto i conti... Noi dobbiamo parificare, la regione siciliana deve parificare ancora il bilancio 2020. Siamo l'unica regione in Italia che deve parificare il 2020. Vabbè, ti potrebbero dire, da chi ha governato, c'è stata l'emergenza Covid e bla bla bla... Ma eravamo, guardate, eravamo col deretano per terra prima del Covid. Le aziende erano in difficoltà prima del Covid, la sanità era in difficoltà prima del Covid, la viabilità era prima del Covid, i mancati interventi sulla prevenzione dei rischi idrogeologici non c'erano né prima del Covid, non ci sono nemmeno ora. E sulla gestione, una tra le tante, una tra le tante, la regione Sicilia, la Sicilia, che è una terra bagnata dal mare, 960 chilometri di costa, Messina, abbiamo, ci possiamo vantare di avere 11 bandiere blu, la Liguria ne ha 34, il Friuli, il Trentino Alto Adice, nei laghi, ne ha 10. Quindi vorresti dire che abbiamo distrutto le nostre coste? Non le abbiamo preservate in maniera corretta. I fenomeni non sono irreversibili, però bisogna intervenire in maniera chirurgica, non inseriti in un contesto... Beh, a questo punto però ti devo fare una domanda chiarissima. No, 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 scusami... No, no, la domanda è necessaria, questa è necessaria, perché tu hai toccato un tema delicato, quello della tutela delle coste. È chiaro che in una regione dove ci sono tre siti altamente inquinanti che si occupano di petrolchimico, è quella la matrice che in poco ha distrutto, oltre all'antropizzazione selvaggia del territorio. Ti faccio una domanda, petrolchimico sì o no, anche alla luce della... Allora, io faccio un ragionamento. Per me va tutto bene purché al centro ci sia il rispetto dell'ambiente, e il rispetto della salute dell'essere umano. La politica deve mettere al centro l'essere umano. Il politico non deve considerare l'essere umano come un cliente o come un elettore, lo deve considerare come un essere umano. E al centro di quest'essere umano dobbiamo mettere l'azione politica. In Sicilia, attenzione, per noi siciliani la politica ne ha dato poco. Noi non siamo, io lo dico sempre, lo sto ripetendo in tutte le lingue del mondo, noi non siamo nati per errore in Sicilia. Ma c'è una cosa battuta di Pino Caluso. Non siamo nati per... Se Dio vuole amare a qualcuno lo fa nascere siciliano, ma se proprio lo detesta, a Palermo, nasce a Palermo. Ma guardate, noi non siamo nati... Credo che sia di Pino Caluso. Sì, ma di chiunque so sia è molto aderente alla realtà. Noi non siamo nati per errore in Sicilia e rimaniamo in Sicilia perché non abbiamo avuto la possibilità di scappare da Sicilia. E quindi abbiamo un'altra battuta a sciascia siciliano di scoglio. Tu sei di sabbio o di scoglio? Io sono madonita. Quindi sei aggrappato al territorio? Sono aggrappato al mio paesaggio e non sono nato per errore. I miei figli non sono nato per errore. E abbiamo diritto di vivere in quel territorio. Ma questa è la... Guarda, ti posso interrompere? Perché io credo che questa sia la cosa più... Il mood più forte che hai dato oggi è questo. Il concetto di ho il diritto di vivere lì. Quindi è l'appello anche di un papà che vuole dire io faccio politica perché rivendico il diritto di vivere dove sono nato. Ma io voglio vivere là perché ho diritto. Non sono nato per errore sulle Madonie. Così pure i miei amici dei Nebrodi, dell'Etna, con cui ho avuto un rapporto in questi anni meraviglioso. Ma c'è una rete, come dire, vi sentite, tra i popoli delle terre alte? Noi abbiamo un coordinamento di sindaci. Ovviamente io mi sono dimesso, sono il coordinatore regionale. Mi sono dimesso da questo incarico. Per poter concorrere. Per poter concorrere perché sarebbe stato inopportuno. Dico che è già coordinatore regionale del comitato per le zone franche e montane. Ecco, e allora io dico alla politica, dico alla Chinnici, al Partito Democratico, dico a Schifani e al centro-destra. Ma Armao è un nominato, un fortunato che è stato, che ha avuto il privilegio. Però si sta mettendo, come dire, si sta mettendo la faccia. Si, si è messo la faccia ancora da vicepresidente della regione. Ma che faccio? Uno che fa il vicepresidente della regione di Forza Italia e si candida in un altro partito. Ma poi Armao si candida. Guardate, questo soffre della sindrome di Stoccolma. Le dico per favore. Vabbè, diciamo, dico a chi ci ascolta, se non sapete, non conoscete il concetto di sindrome di Stoccolma, cercare su Google è quella cosa che succede a chi viene rapito, diventa sostanzialmente soggiocato al suo rapitore. No, allora, nel 2015 il governo Crocetta e quindi Renzi, il capo del governo, sottoscrivono degli accordi tra lo Stato e la regione siciliana, accordi che vanno contro gli interessi socio-economici e politici, soprattutto sociali, del popolo siciliano. Quali? Ma tutti, perché si parla sempre di soldi, di economia. Quando viene fatto il cambio, io ti do tanto, però tu mi cancelli queste rivendicazioni sullo Statuto. Sì, sono stati tre accordi che sono ben evidenziati nella delibera 197 del 2018. Mi devi dire la verità, di tutti quelli che sono venuti qua non hanno parlato mai di delibera 197 del 2018. Non voglio fare controinformazione, te lo copiamo piano, all'orecchio. Ecco, perché il tema di questa campagna elettorale dovrebbe essere la delibera 197 del 2018. 2018, che è l'unica delibera, l'unica cosa buona che Armao e Musumeci hanno fatto in questo governo. Poi l'hanno... Quindi onore al merito, quando si muove cose buone. Sì, ma onore al merito che è durato 30 secondi, il tempo di approvarla. Perché? Perché poi non hanno avuto il coraggio di portarla avanti, di applicarla. E' una norma inapplicata che nemmeno è stata trasmessa ufficialmente al Parlamento Siciliano. E' quella del Libero, la forza del Libero centrale, cosa prevede? Sono le norme di attuazione in materia finanziaria della regione siciliana. Allora, in materia finanziaria, che si parla di attuazione quindi in materia finanziaria dello Statuto. Allora, questo Armao, che cosa fa il professore Armao? Nominato e per grazia ricevuta, perché Berlusconi lo ha voluto per forza là dentro, ed è l'oggetto della lite tra Miciche e Musumeci, è Armao. Perché se non ci fosse stato Armao, noi per tutti questi casini in Sicilia non li avremmo avuti. Va bene? Chi sta comagrando la nuova mese d'agosto, questo professore Armao? Ma bisogna dire le cose per come stanno. Dobbiamo mettere la parte, l'ipocrisia delle parole, se vogliamo essere onesti con noi stessi. Bene. Renzi, oltre a poco... Ti prego, non ne facciamo mai una questione personale. Assolutamente, per carità. Stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di persone, perché come persone il professore Armao è uno stimatissimo professionista, però poi quando entri nel lagone della politica e sei il vicepresidente della regione... Dice, vuoi entrare nel merito dell'azione politica. Allora, tu te ne vai con Renzi, che è stato colui il quale ha consegnato la Sicilia allo Stato, facendo sottoscrivere tre accordi che Armao stesso ha definito incostituzionali. Permetti la consegnazione... C'è un minimo di incoerenza almeno? Permetti, no un minimo, c'è un minimo di altro. Aspetta, è una cosa che inizia con para e finisce con ismo? Sì, assolutamente. Permetti che la regione siciliana azzeri 10 miliardi 785 milioni di euro di crediti, di disavanzo, senza accertarsi che questo disavanzo... Sono dei crediti... Senza accertarsi che questi crediti potevano essere esigibili. li hai cancellati completamente, perché li ha cancellati questi crediti, la regione siciliana, con delibera di giunta del 10 agosto 2015, la numero 204 mi pare, 274... Beh, qualcuno potrebbe dire, erano momenti grandi di crisi e lo Stato è stato un gesto di solidarietà... Sì, e tu cancelli, tu cancelli, cancelli queste enorme cifre che potresti incassare, se ti impegni ad incassarle, li cancelli all'indomani... In cambio di che cosa? Non ti è capito. In cambio che questi 10 miliardi, 875, circa 11 miliardi, li dobbiamo restituire allo Stato, li dobbiamo mettere nella disponibilità dello Stato per i prossimi 30 anni. E Armao ha definito questo, che non è un credito, che vanta lo Stato nei nostri confronti, lì l'ha definito una simmetria contabile. Ma questo è un altro discorso, perché lì ci sarebbe da scrivere un libro su questa cosa. Allora, Armao si presenta con la stessa persona, ed è il rappresentante, fa il Presidente della Regione, per Renzi, per Calenda, quando ai tempi, nel 2015, ha detto, a chiare lettere, sia in Commissione Bilancio alla Camera, che in tutte le cose che ha scritto, che quegli accordi erano incostituzionali, e rimangono incostituzionali, e quella azione che è stata fatta... Ma come minimo il Presidente Armao dovrebbe spiegare le ragioni della sua candidatura alla luce di questo... Ma come minimo il Presidente Armao si dovrebbe dimettere da Vice Presidente della Regione domani mattina, anzi subito, e dovrebbe spiegare perché nel 2015 Renzi ha tradito la Sicilia, e ora ci va a nozze nel 2022 per essere... Beh, tradire la Sicilia, però, diciamoci la verità, è stato da sempre, fin dai tempi dello sbarco degli americani, è stato lo sport nazionale e internazionale, ma questa è la nostra storia, quindi... Sì, la storia dobbiamo cambiare. Però, perdonami, secondo te, voi avete la forza per cambiare questa lunga scia, questa lunga corrente storica, in cui la Sicilia resta sempre un territorio, se non da colonizzare, come minimo da tenere ai margini dello sviluppo? La Sicilia, fino ad oggi, non è stata... Io vado al di là della colonizzazione. La Sicilia è un banco, ma per gli imprenditori del nord, che aspettano il piano nazionale di ripresa e resilienza, ribadisco che non è una misura sostitutiva, è una misura integrativa. E invece? Perché fai... è la seconda volta che sottolineo in questo aspetto. Secondo te la Regione sta sfruttando le risorse del PNR come misura sostitutiva? Ma è chiaro, ma prima di sfruttare, di chiedere e di investire sul piano nazionale di ripresa e resilienza, prima utilizziamo i fondi strutturali, prima attuiamo lo statuto, prima attuiamo l'articolo 38 che è attuale, dello statuto, che riguarda la compensazione... Quindi le cose che si stanno facendo col PNR, per fare capire a Cici Ascolta, si sarebbero dovute fare con i fondi strutturali dell'Unione Europea, con le altre risorse di gestione della regione. Ma si potevano fare benissimo, si possono fare, perché un tema che fino ad oggi... Quindi oltre al danno alla beffa, il danno di utilizzare i soldi delle risorse, i fondi strutturali europei, usi i soldi del PNR che sono comunque in prestito. C'è un'altra legge che dobbiamo restituire e che nessuno sta raccontando, rispetto agli investimenti che si faranno nei territori, nessuno sta raccontando il PIL che crescerà in questi territori, perché poi il debito lo dobbiamo pagare col PIL. Quindi io mi devo far dire dai nipoti, dei miei nipoti, ma quanto è stato disgraziato mio nonno che mi ha messo nei guai per i possibili... Allora, prima c'è un altro tema che è stato sotterrato rispetto al piano nazionale di ripresa e resilienza, che è il famoso 40% che lo Stato, la legge 18 del 2017, che impone allo Stato di investire il 40% di risorse per le spese in conto capitale. Al sud, che cosa è diversa il sud dalla Sicilia? E cosa è diversa? Perché la spesa pro capite per cittadino al nord è di 18.050 euro pro capite, in Sicilia è di 14.050, giù di lì, ogni anno in Sicilia lo Stato spende 25 miliardi di euro in meno. Ma scusami, senatore Schifani, ma fino ad oggi dove sei stato? Musumeci, Armando, tutti i candidati, Ho capito e credo che comunque abbiamo sforato completamente il tempo. L'editore ci bacchetterà, perché siamo andati ben oltre il tempo che era a nostra disposizione. C'era una domanda a proposito. No, aspetta, voglio farti una domanda. Sì, questa era. Voglio, come dire, smussare un po' i toni, tornare un pochettino sul trivial, però non sul triviale, cioè sulle cose nazional-popolari. Allora, io ricordo, non sto parlando di politica, ma di forme, di relazioni, ricordo che all'inizio della campagna elettorale Cateno De Luca girava con una lanternina con dentro una candela e metteva, ogni candidato sottoponeva il candidato al testo della candelina, della lanternina. Ma tu te l'hai fatto? Sei arrivato... No, no, io sono arrivato in maniera... Come sei arrivato appunto? Io sono arrivato... Comunque, già la notizia è che non hai avuto bisogno del testo della lanternina. No, ma a parte questo, a me lega a Cateno De Luca la passione e l'amore che abbiamo per la terra di Sicilia. Disinteressato, perché io queste cose le ho studiate, le vivo quotidianamente, soffro quotidianamente perché ritengo che lo Stato nei confronti della regione siciliana è sleale, ma è sleale lo Stato perché in Sicilia manca autorevolezza. Perché se ci fosse stata autorevolezza... Il nostro paese ha espresso Presidente della Repubblica, Ministri dell'Interno, Presidenti del Senato, cioè tutta questa autorevolezza... O c'è una classe politica che in 60 anni è stata soggiogata dal dogma romano... Ma io, ma guardate, non voglio toccare assolutamente... Sentirei i ministri. Non voglio toccare assolutamente l'immagine sacra e la sacralità della Presidenza della Repubblica. Frena, per favore. Non voglio assolutamente... Si chiama il dipendio. Assolutamente. Però il Presidente è arbitro di tutti gli italiani. E secondo me, in questi sette anni, lo dico in punta di piedi, lo dico in punta di piedi perché non voglio creare assolutamente... Però quando ci sono state delle storture nei confronti del popolo siciliano, avremmo potuto essere più attenzionati nello specifico da parte... Ma per esempio in quale caso? Ma nel caso, per esempio, degli accordi. Hanno cambiato lo statuto della regione siciliana con decreti legislative. Lo statuto... Non deve essere sottoposto, come dire, al passaggio... Ma deve essere sottoposto... Di tenore costituzionale. Certo. Hanno firmato gli accordi. Il 170 minuti che cambiarono le sorti della Sicilia quando la regione siciliana si è accordata con lo Stato sul riconoscimento dell'IVA e dell'IRPEF. Ma questo, diciamo, dipende dal vecchio governo. Nel 2015. Nel 2015. Governo di centrosinistra. Ed è stato cambiato con... Con danno pari a... Ma il danno è stato riconosciuto 3,64 decimi di IVA alla regione siciliana e 7,10 decimi di IRPEF alla regione siciliana. Un decimo di IRPEF vale 700-800 milioni di euro. Un decimo di IVA vale 500 milioni circa di euro milioni di euro. Ecco, perché no 3,65 piuttosto che 3,64 quando noi dobbiamo incassare i decimi di IVA e di IRPEF. Certo. Leggasi articolo 36 e 37 dello Statuto. Ma poi alla fine girandoci attorno è sempre quello il nodo dello sviluppo siciliano. La mancata attuazione dello Statuto. Assolutamente. Assolutamente. Io sento dire candidati che c'è un candidato sulle madonie poverino che ancora dice dobbiamo dare borse di studio ai ragazzi. Io gliene voglio dare la battuta. Ma con quale picciole? Ma con quale picciole? Quindi il tema principale del futuro della regione siciliana è l'attuazione dello Statuto che vale 20 miliardi. Lo dice il professore Armao, non lo dice la punta. Eh no, questa cosa ci fidiamo il professore Armao. Vale il professore Armao perché quando dice le cose giuste... Autorevole. Ma guardate, Armao e Musumeci hanno approvato una delibera che credo sia Armao e Musumeci e questo governo. La 197 del 2018 che è la delibera madre costitutiva che l'hanno zero. Però l'hanno fatto i regolamenti attuativi. No, no, l'hanno fatto e l'hanno soltanto apprezzata. Non l'hanno portata all'Assemblea regionale. Non l'hanno sottoposta nemmeno alla Commissione Paritetica che è un organismo che in Sicilia c'è dove sono due uomini, due rappresentanti dello Stato e due rappresentanti del governo. Non possiamo andare avanti perché lo Stato non ha soldi. Ma scusate, io che cosa posso andare a dire al mio barrista la mattina che mi vado a prendere il caffè al bar e dice no, tu non hai diritto a niente perché lo Stato soldi non ce ne può dare. Quindi diamo il caffè gratis. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, secondo me, il prossimo governo deve partire dalla 197-2018 che è quello il punto su cui basare il futuro. E Cateno De Luca è pronto a seguire questa battaglia sulla 197-17? Cateno De Luca è una persona secondo me la qualità giusta ma non lo dico perché sono candidato candidato qua chi mi conosce lo sa io non lo dico perché sono candidato con Cateno De Luca. La Sicilia ha bisogno di Cateno De Luca perché rappresenta la qualità giusta ma voi immaginate dal punto di vista costituzionale il Presidente della Regione Siciliana deve essere presente per ogni argomento che riguarda la Sicilia. Deve essere presente nel Consiglio dei Ministri. Nel Consiglio dei Ministri non capita quasi mai. Ditemi qual è l'argomento che non riguarda l'interesse della Regione Siciliana. Ti posso fare un esempio oggi parlando anche di guerra in Ucraina dovrebbero chiamarci perché le basi militari sono qua ogni giorno. le basi militari sono qua il MOSS è qua ma io c'è un argomento che vorrei che fosse portato all'attenzione ma quanto ci danno gli americani in termini di royalt rispetto o di affitto non so sul MOSS per il MOSS e là bisogna chiedere all'ex ministro la russa perché l'accordo bisognerebbe bisognerebbe comprendere cioè noi diamo gli americani diamo tutto io ricordo vado a braccio vennero fatte le compensazioni per la sughereta di Niscevi ma insomma poca roba rispetto al livello di non ci fila in campo energetico in campo energetico noi abbiamo abbiamo delle abbiamo campo energetico battuta solare eolico o diciamo il classico petrolchimico alle 10 di mattina stamattina la Puglia e la Basilicata produceva il 105% del proprio fabbisogno con il solare con tutto l'eolico e il solare con tutta l'energia l'eolico però è abbastanza invasivo sul piano del territorio voglio fare un esempio il 105% quindi esportavano all'esterno il 5% in Sicilia mi pare nemmeno arrivavamo al 36% siamo dei pochi in coscienza quindi noi siamo ancora ancora bisogna siamo indietro anche su questo ma perché siamo indietro perché di fatto mi diceva proprio stamattina un tecnico uno che si occupa di queste cose l'imprenditore per venire a investire in Sicilia sul fotovoltaico e sull'eolico è un pazzo perché qua le autorizzazioni tempi lunghi non ci sono infrastrutture per accogliere tutta l'energia pressioni pressioni in debita pressioni del territorio pressioni della politica poi c'è di tutto però però io per esempio credo che l'energia alternativa il fotovoltaico per esempio noi abbiamo tanti tetti che potremmo utilizzare che dobbiamo utilizzare per fare e bisogna trovare un punto di incontro anche con l'esperienza amministrativa delle sovrintendenze rispetto è decisionale rispetto a ciò che perché è chiaro che dove c'è un bel vedere con non ci permetterete che si vedono bene ma ci sono paesi come Castellana Sicola che potrebbe essere benissimo solarizzata con con i pannelli solari c'è il progetto delle comunità energetiche locali si ma il progetto delle comunità energetiche non è di facile attuazione bisogna lavorarci ma in ogni caso cercare di favorire nel rispetto dell'ambiente perché se metto a casa mia un pannello fotovoltaico lo vedono gli uccelli allora ma se lo vado a mettere a gangi e mi affaccia al bel vedere è chiaro che bisogna trovare un impatto maggiore ma dobbiamo deprezzo il valore turistico della realtà dobbiamo trovare la soluzione certo Borghi è uno dei più borghi del mondo mi sono impappinato ecco e bisogna trovare ora veramente il tempo a nostra disposizione è veramente sì bisogna trovare la soluzione per equilibrare il rispetto dell'ambiente e la produzione di energie e lo sviluppo insomma la ricerca la pietra filosofale il ruolo della politica la politica ha questo ruolo però mi insegni che è la ricerca della pietra filosofale in questo tutti hanno tentato sempre di fare questo ma perché l'obiettivo principale è chi deve andare a fare l'assessore chi deve andare a fare il direttore generale chi deve essere eletto chi non deve essere eletto chi deve gestire il potere lì siete immuni insomma con Sicilia Vera siete immuni ma io non ho mai se non abbiamo io l'argomento di discussione mio non è stato o degli altri non ho sentito e non mi pare che ci sia un livello di discussione dove si dice chi deve essere l'assessore non per la categra quindi ma qua invece nel centro-destra già c'è la guerra Schifani non verrà in centro e già cercano chi devono essere gli assessori chi non devono essere gli assessori dobbiamo pensare dobbiamo pensare al popolo siciliano che sta soffrendo che è in forte difficoltà dal punto di vista economico e dal punto di vista soprattutto sociale perché la gente ha bisogno di essere ascoltata e le parole non devono rimanere parole ma devono diventare azione legislativa attuabile allora io ringrazio Vincenzo Lapunsina un fiume in piena che soprattutto ci ha dimostrato grande passione politica e amore per il suo terreno per il suo paesaggio perdonami c'è la differenza tra chi non è abbastanza chiaro non è chiaro ma c'è veramente scortese non si fa così con i giornalisti non è chiaro era abbastanza chiaro sì però voglio per essere più chiaro chi parla di paesaggio è innamorato del proprio paesaggio chi parla di territorio lo vede come è fatto cerca il business invece noi nel territorio dobbiamo cercare la vita del territorio l'armonizzazione la natura e l'estero guarda lo ripeto a chi ci ascolta la cosa più bella che ci ha detto se non avete vi siete collegati soltanto adesso riascoltatevi la puntata perché Vincenzo ci ha raccontato una storia bellissima del suo paesaggio del suo territorio ma qui lo dico semplicemente per dare una collocazione temporale e geografica ci ha raccontato semplicemente che lui fa politica perché chiede il diritto di vivere in un luogo dove è nato e credo che sia la cosa più naturale che si possa sentire diritto di vivere perché io non ho la possibilità di scappare i nostri giovani ma secondo me se tu avessi la possibilità di scappare non lo faresti non lo faccio io ma i miei figli saranno i territori e distruggeremo quei paesaggi sono partito una coppia di ragazzi di giovani marito e moglie andranno al nord in Toscana perché andranno nelle segreterie scolastiche e quant'altro la prossima settimana partiranno le due bambine ho detto alla zia scusami ma queste bambine ritorneranno in Sicilia mi ha detto no io sono venuto qui con un nodo alla gola perché quando due bambine due bambine di prima media e terza elementare vanno via da un comune è una sconfitta per tutti e questo non ce ne rendiamo conto è la sconfitta della politica è il fallimento della politica ecco perché serve il 25 settembre un cambio di passo bisogna avere il coraggio di fare un'azione forte perfetto io ringrazio chi ci ha seguito in questa lunghissima animata e anche interessante chiacchierata al mio punto di vista Vincenzo grazie al tempo che ci hai dedicato in bocca al lupo diciamo in bocca al lupo vive il lupo e soprattutto che i siciliani comprendano veramente è un appello al voto intanto andate a votare mamma mia è un fiume in piazza non riesco a fermarlo andate a votare c'è pure il rischio di astensionismo andate a votare perché se non andate a votare se non andiamo a votare la palla rimarrà a chi fino ad oggi non ha amato la Sicilia poi andate a votare e ovviamente beh ricordo a tutti è giusto l'appello in ogni caso al di là delle simpatie politiche bisogna votare perché bisogna contribuire come dire al lavoro democratico di questa regione nuovamente grazie a Vincenzo Rapunzina in bocca al lupo per la tua candidatura ci vediamo magari il 26 settembre quando i risultati saranno definitivi vediamo se la tua profezia è corretta un grazie a chi ci ha seguito in questa lunghissima un po' inaspettata per lunghezza appunto puntata di Talk Sicilia grazie e arrivederci alla prossima puntata grazie